Oggi nuova video recensione ma non di un film che è appena uscito nelle sale né tantomeno recentemente uscito in streaming o in on video è un film ormai di più di 30 anni fa del quale voglio parlarvi sia per lasciare traccia nel mio canale sia perché ho avuto la possibilità di rivederlo nelle settimane scorse e quindi volevo sfruttare il tutto proprio per farne una video recensione una video recensione tra l'altro che entrerà a far parte di quella che è la rubrica i film della mia vita ma vi spiegherò tutto fra poco prima di iniziare io come sempre vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto perché è il modo più semplice rapido ma anche più importante per aiutare il canale a crescere ancora di più poi vi ricordo anche di lasciare il vostro mi piace se il video vi sarà piaciuto di commentarlo con la vostra opinione sul film in questione e vi ricordo anche che vi aspetto nella mia pagina instagram nella mia pagina facebook nel mio canale telegram trovate i link qui sotto in descrizione detto questo però passiamo appunto alla nuova video recensione di oggi che mi permetterà appunto di parlarvi di un film che secondo me ha scritto la storia del cinema negli ultimi 40 anni ma in generale io credo si possa parlare di un film capolavoro per tutta la storia del cinema farà parte appunto questa video recensione della rubrica i film della mia vita vi spiegherò meglio perché e in particolar modo oggi parleremo di it la sfida di michael man ora io quando parlo di film che comunque hanno già diversi anni alle spalle un film uscito in questo caso alla metà degli anni 90 un film che ha segnato davvero la storia del cinema ne parlo appunto facendo rientrare la video recensione nella rubrica i film della mia vita perché perché sono film che hanno segnato la mia vita in senso globale hanno segnato la mia vita da cinefilo ma non soltanto hanno davvero rappresentato qualcosa di importantissimo per il sottoscritto ed inoltre proprio per questo motivo quando faccio la video recensione voglio sentirmi libero di parlarne a 360 gradi quindi anche eventualmente facendo spoiler per questo motivo quindi ho fatto questa precisazione quindi ciò significa che se non avete ancora mai visto it la sfida se avete voglia di recuperarlo nelle prossime ore nei prossimi giorni magari incuriositi da questo mio spunto vi invito a non seguire questa video recensione a recuperarla soltanto dopo oppure se non ve ne frega niente degli spoiler oppure se il film lo avete già visto sappiate appunto che in questa video recensione potrei fare degli spoiler anche perché quando parlo di film così importanti di film che hanno davvero scritto la storia non saranno delle vere e proprie video recensioni sono più che altro delle chiacchierate nelle quali vado a condividere il mio pensiero la mia opinione le mie emozioni sul film in questione e infatti sarà questo il caso di it la sfida di michael man ovviamente proprio per fare un breve cenno di trama ricordiamo che il film racconta questa sorta di duello a distanza tra due grandi personalità da una parte il personaggio interpretato da robert de niro e cioè macaulay un criminale con una banda che chiaramente porta avanti tutta una serie di colpi soprattutto delle rapine cioè chiaramente con l'obiettivo di arricchirsi dall'altra parte abbiamo il detective vincent hannah che invece è interpretato da al pacino e che non fa altro che dare la caccia a questi banditi insieme alla sua squadra chiaramente il tutto ovviamente questo sarebbe quasi una sorta di ridurre al minimo quello che è il senso di it e quello che è il film it e poi in realtà il tutto va avanti attraverso appunto questo scontro a distanza ma chiaramente attraverso anche tutta una serie di personaggi secondari che vanno ad arricchire quello che è il cast del film con un'ambientazione ci arriveremo tra poco che è davvero da paura e quindi il tutto poi non fa altro che permettere a michael man anche di andare ad esplorare queste personalità quindi non fa altro che andare ad approfondire quelle che sono le caratteristiche umane dei vari personaggi che è un po' quello che succede quasi sempre nell'ambito dei film di michael man però ecco la sfida a distanza tra questi due colossi tra questi due giganti di quella che è la criminalità da una parte e della polizia dall'altra che poi non fa altro che in qualche modo diventare una sorta di sfida anche metacinematografica tra robert de niro e al pacino due giganti del cinema chiaramente quindi questo diciamo che è il come dire la trama generale molto generale di hit la sfida però è chiaro che il film è tanto altro il film è un film gigantesco un film che ha scritto davvero la storia del cinema fin da quando è uscito ora io per questione anagrafiche purtroppo non ho mai avuto la possibilità di andare a vedere hit al cinema perché è un film come dicevo della metà degli anni 90 e quindi io ero ancora bambino un ragazzino quindi i miei genitori non mi portarono a vedere hit al cinema perché ero davvero troppo piccolo non ho avuto la possibilità di andarlo a vedere neanche nei decenni successivi io credo che non sia stato mai ancora riportato in sala in maniera ufficiale chissà che la cosa non possa succedere nei prossimi mesi o nei prossimi anni quindi coglierò l'occasione qualora si dovesse presentare però è ovvio che nel momento in cui ho iniziato ad avvicinarmi all'arte cinematografica cercando di approfondirla, cercando anche di esplorarla, innamorandomene sempre di più tanto che infatti poi è diventata la mia passione principale chiaramente non potevo tralasciare hit tra l'altro è un film al quale io personalmente mi sono approcciato guardando il padrino perché vi dico questo? perché guardando il padrino, o per meglio dire dopo aver visto il padrino perché guardando il padrino chiaramente io non ho fatto altro poi che chiaramente a innamorarmi del cinema perché il padrino è stato il film che mi ha fatto in qualche modo innamorare definitivamente dell'arte cinematografica poi ovviamente ho visto il padrino parte seconda e nel padrino parte seconda chiaramente ci sono due attori che ovviamente ritroviamo anche in hit cioè Robert De Niro da una parte e Al Pacino dall'altra tra l'altro i due attori che cominciavano in qualche modo ad assumere una certa importanza nella mia mente, nel mio cuore cominciavano a diventare davvero tra i miei attori preferiti qual era però in qualche modo il cruccio che mi portavo dietro dopo la visione del padrino parte seconda? il fatto che nonostante ci fossero questi due grandi attori in realtà in quel film, lo sappiamo benissimo i due non interagiscono l'uno con l'altro perché? perché appartengono a due linee temporali diverse da una parte c'è Robert De Niro che interpreta il giovane Vito Corleone dall'altra parte Al Pacino che interpreta Michael Corleone quindi sono due personaggi che non potevano incontrarsi fisicamente l'uno con l'altro e quindi in qualche modo dopo aver visto il padrino parte seconda io mi sono chiesto per diverso tempo prima di in qualche modo esplorare anche la filmografia di altri registi mi chiedevo ma porca miseria ma è possibile che questi due grandi attori non abbiano avuto la possibilità di come dire entrare in gioco in un film, in una stessa scena interagendo l'uno con l'altro fino a quando chiaramente non ho scoperto IT la sfida di Michael Mann tanto che infatti credo sia stato il primo film di Michael Mann che io abbia mai visto nella mia vita da cinefilo ovviamente per questo perché? perché quando appunto scoprì che erano presenti entrambi erano presenti entrambi ed inoltre erano presenti anche in una determinata scena insieme andai in brodo di giugiole quindi non feci altro che recuperare il DVD di appunto IT la sfida distribuito dalla CG tra l'altro la Cecchigori qualche anno fa ha rimasterizzato anche il film riproponendolo in una versione quindi nuova che potete tranquillamente trovare nei vari store online nonché nel loro sito e quindi decisi di guardare IT ed infatti me ne innamorai perdutamente fin dalla prima visione fin dalla prima volta e perché? Perché è un film gigantesco, è un capolavoro io qui non ho nessuna esitazione nello sbilanciarmi anche perché sono già passati trent'anni, più di trent'anni dalla realizzazione di IT e ancora oggi il film di Michael Mann riesce davvero a dettare legge riesce davvero a rappresentare un film che probabilmente si può anche studiare nelle scuole di cinema, ora io non ho mai fatto scuole di cinema, non ho mai studiato cinema come sapete, però io credo che moltissime di quelle che sono le sequenze in IT moltissime di quelle che sono le caratteristiche generali del film dalla scrittura, passando per la messa in scena innanzitutto scusate se si sentono rumori in sottofondo ma devo tenere un po' le finestre aperte perché qui in Sicilia c'è già un po' di caldo dicevo, tutto quello che fa parte proprio della struttura di IT è davvero di altissimo livello e innanzitutto probabilmente l'apice di quella che è la carriera di un grandissimo artista come Michael Mann il quale non è che abbia realizzato tantissimi film nella sua carriera se non ricordo male ne ha diretti 12, non vorrei sbagliarmi in più di 40 anni, quindi non in maniera particolarmente frenetica quindi uno ogni 4-5 anni questo significa quindi che pur non avendo mai realizzato tantissimi film in realtà la qualità complessiva della sua filmografia è sempre stata elevatissima e IT forse rappresenta davvero l'apice raggiunto da Michael Mann perché tutto quello che è il modo di far cinema di Mann si condensa in una pellicola che in circa 2 ore e mezza regala davvero qualcosa di ineguagliabile per molti aspetti nella stessa filmografia di Michael Mann ma in realtà anche nella filmografia di tanti registi perché? Perché Hit la sfida è un film che tra l'altro proprio per la sua grandezza è difficilmente etichettabile perché? Perché sì, lo possiamo considerare un film thriller per molti aspetti, è un film drammatico chiaramente, è un poliziesco ma è anche un noir fondamentalmente tutto questo ovviamente si, come dire, confluisce in una pellicola che riesce davvero ad esaltare tutte quelle che sono le sue caratteristiche perché è un film scritto da Dio è un film che ha una sceneggiatura di una solidità di una potenza di una grandezza tra l'altro in tutti i suoi aspetti che riesce davvero ancora oggi a risultare nettamente migliore di tanti thriller, di tanti polizieschi di tanti noir che vengono realizzati oggi senza ombra di dubbio il tutto partendo da una narrazione che non ha, secondo me, intoppi è un film che, boh, probabilmente io continuo a vederlo con il passare degli anni ma non riesco a trovare difetti in quella che è la storia raccontata non riesco a trovare dei buchi di trama non riesco a trovare delle problematiche nella caratterizzazione dei personaggi nulla quindi una sceneggiatura davvero di ferro il tutto anche, chiaramente, corredato da una caratterizzazione anche degli stessi personaggi che rende particolarmente semplice quello che è il lavoro di, comunque, grandissimi attori perché abbiamo una squadra di attori davvero fenomenale ci arriveremo tra poco poi, chiaramente, Michael Mann in questo film come detto, come dire, raggiunge una maturità artistica che, chiaramente, avevamo già intravisto fin dai suoi primi film perché anche nei film forse, tra virgolette, meno riusciti ma tra mille virgolette davvero come può essere La Fortezza in parte Menantere per quanto Menantere sia un grande film chiaramente chiaramente è l'ultimo dei Moicani ma quello è un grande film davvero in It, la sfida raggiunge davvero il meglio del meglio non so come definirlo diciamo, una qualità che avremmo comunque continuato a trovare anche in altre pellicole successive con Lateral anche Miami Vice che è un film, secondo me, un po' troppo sottovalutato lo avremmo trovato anche negli ultimi film seppur in misura minore forse non avremmo mai più avuto It, la sfida come qualità generale però davvero è una pellicola che riesce a sbalordire riesce a riempirti gli occhi riesce a farti stare col fiato sospeso anche dopo che l'hai visto decine di volte perché io l'ho rivisto qualche settimana fa quindi sapendo benissimo che cosa mi avrebbe regalato il film l'ho fatto vedere anche a mia moglie per la prima volta quindi sapevo come le cose sarebbero andate eppure ogni volta io rimango lì come dire inframente attesa per vedere come le cose andranno sapendole già benissimo conoscendole già benissimo ci sono delle sequenze nel film Hit che sono davvero da antologia c'è la sequenza della sparatoria ora chi ha visto il film lo sa chi non l'ha visto magari sta rimanendo qua per curiosità ma la sequenza della sparatoria è davvero qualcosa che è stata diretta magistralmente una come dire una diciamo un connubio tra la coordinazione tra i vari attori chiaramente anche la gestione proprio della messa in scena i movimenti di macchina le inquadrature il sonoro ovviamente tutto funziona alla stragrande in quella sequenza di una decina di minuti più o meno ed è una decina di minuti che scrivono la storia del cinema ma in realtà quella è probabilmente la punta di diamante è la sequenza più vistosa la sequenza più eclatante di un film che in realtà riesce a riempirti anche con una semplice inquadratura da dietro del personaggio di Robert De Niro affacciato alla finestra la fotografia la fotografia di questo film come del resto di tutti i film di Michael Mann è qualcosa di strabiliante con l'utilizzo di questi colori che per esempio vengono esaltati dalle ambientazioni notturne questi blu questi verdi che risultano essere quasi onirici risultano essere quasi finti nella loro nel loro apparire ma non fanno altro davvero che andare ad esaltare quella che è l'atmosfera appunto da quasi notturna da sogno da incubo a seconda dei momenti e non fa altro chiaramente che andare a regalare anche una sfumatura diversa ai vari personaggi che si muovono in queste atmosfere è un film ovviamente registicamente perfetto e lì io davvero non voglio sentire ragioni perché io un film diretto come It io devo come dire non che non si possa trovare ma bisogna andarlo a cercare bisogna andare a fare una scrematura molto importante anche nella filmografia di altri registi perché Michael Mann in questo film davvero afferma con tutta la sua potenza di essere un grande regista forse un regista che da un punto di vista delle premiazioni cinematografiche non ha mai avuto i grandi riconoscimenti che avrebbe meritato e probabilmente qui vale il discorso che non è necessario vincere un Oscar non è necessario vincere i premi per poter essere un grande regista ecco per Michael Mann probabilmente questo è vero però in realtà ripeto Michael Mann un po' come dire in maniera unanime è da considerare un grande regista poi in realtà non ricordo forse lui credo abbia vinto l'Oscar per l'ultimo dei Moicani probabilmente ora non mi sono documentato in maniera rapida però lasciamo un po' come dire in sospeso il discorso eventualmente ci riaggiorniamo tra i commenti quindi scusatemi per l'eventuale imprecisione per quanto riguarda Hit la sfida come dicevo poc'anzi è ovvio poi che il tutto viene corredato anche da un cast di altissimo livello è un film corale Al Pacino Val Kilmer abbiamo una giovanissima Natalie Portman abbiamo Ashley Judd un'attrice che in quel periodo risultava essere particolarmente come dire anche di moda lasciatemi passare il termine forse un po' troppo dimenticata Val Kilmer West Addy West Judy credo che sia anche la pronuncia quindi un cast di altissimo livello ovviamente nel quale vanno a spiccare questi due pezzi da 90 che finalmente avevamo la possibilità di trovare in scena insieme Robert De Niro e Al Pacino anche se c'è da fare una piccola precisazione in realtà i due non entrano mai nella stessa inquadratura se ci fate caso perché perché anche quando sono in scena insieme in quella che è ormai diventata la famosissima scena della come dire del fast food nel quale sono seduti insieme chiacchierando in realtà non sono mai presenti insieme nella stessa inquadratura perché c'è sempre una sorta di campo e contro campo che accompagna la loro chiacchierata l'unico momento in cui sono entrambi in scena effettivamente ma potrebbero essere anche delle controfigure e nel finale quindi spoiler spoiler ma nel finale quando i due si scontrano a distanza in questa sorta di come dire zona industriale con questi capannoni con questi blocchi che in qualche modo permettono ai due di scontrarsi in una sorta di quasi come dire western moderno chiaramente poi alla fine il personaggio di Al Pacino uccide il personaggio di Robert De Niro il criminale si accascia al suolo chiaramente ormai colpito a morte prende la mano del suo nemico il quale comunque è una persona che lui ha sempre rispettato fondamentalmente fin dall'inizio e i due sono effettivamente presenti in scena insieme ma sono nel buio quindi potrebbero essere tranquillamente due controfigure il film che lei avrebbe visti insieme in scena in una stessa inquadratura sarebbe stato poi sfida senza regole un film facilmente dimenticabile quindi se non avete idea se non sapete di che cosa stiamo parlando siete giustificatissimi e poi chiaramente sarebbe arrivato The Irishman di Martin Scorsese però già il semplice fatto di poter avere nella stessa sequenza due mostri sacri come Robert De Niro da una parte Al Pacino beh tanta roba davvero è quasi come se lo dicevo poc'anzi è come se la loro presenza scenica fosse una sorta di metafora una sorta di come dire sequenza metacinematografica loro due si stanno scontrando anche come dire quasi nel voler recitare stanno dimostrando di essere l'uno più bravo dell'altro chiaramente sto anche esagerando però è ovvio che i due si rispettano sia come personaggi sia come artisti ed è straordinario quella scena per quanto come dire non mette in evidenza nulla perché non succede niente fondamentalmente succede soltanto che i due stanno chiacchierando di fronte a un caffè probabilmente si stanno in qualche modo prendendo le misure stanno sfidandosi anche in maniera verbale non accade nulla di eclatante ma sta succedendo tutto probabilmente quello è il nucleo stesso del film è una sequenza che in qualche modo va anche ad inserirsi in quella che appunto è la poetica il modo di far cinema di Michael Mann gli uomini al di là anche di quelle che sono i loro ruoli quindi la componente umana che prende il sopravvento e poi chiaramente il film continua in una maniera straordinaria tra tante sequenze antologiche tante sequenze che hanno davvero scritto la storia del cinema fino allo straordinario finale quindi davvero è una pellicola che io non riesco a trovare di difetti la componente sonora che ovviamente non fa altro che andare a corredare in maniera davvero strabiliante anche quella che è la messa in scena e ripeto la sequenza della sparatoria è soltanto un esempio ma è davvero soltanto un esempio il comparto attoriale quindi Robert De Niro Al Pacino ma abbiamo un giovane Val Kilmer che già dimostra di essere un bravo artista tutti coloro che in qualche modo vanno a fuggere da attori comprimari più o meno secondari ma che in realtà hanno comunque la loro importanza la fotografia come vi ho detto poc'anzi quindi il tutto in un'atmosfera che probabilmente risulterà essere irripetibile nella filmografia di Michael Mann io l'unico film di Michael Mann che mi ha regalato le stesse sensazioni seppur ovviamente con proporzioni diverse è Collateral perché perché probabilmente è ambientato anche quello spesso di notte e ha davvero un'atmosfera che richiama quella che è l'atmosfera di Hit la sfida seppur chiaramente in misura minore per questo motivo io lo ritengo quello che è il film migliore di Michael Mann ora non voglio sbilanciarmi più di tanto perché potrebbe darsi che nei prossimi tempi realizzerò la classifica personale la mia classifica personale dei film di Michael Mann però siamo di fronte ad un capolavoro siamo di fronte ad un film che dopo 30 anni non invecchia di un solo secondo non invecchia di un giorno ed è ancora oggi un film di una potenza di una freschezza di una frizzantezza artistica che è davvero sbalorditiva quindi quando io voglio far conoscere a qualcuno il cinema di Michael Mann è ovvio che consiglio subito Hit la sfida e poi da quello tutto viene a scendere è chiaro che probabilmente guardando per primo Hit la sfida non si troverà più nulla di paragonabile appunto a quello quindi tutte le altre pellicole di Michael Mann potrebbero risultare essere deboli per quanto nella filmografia di Michael Mann non ci siano film deboli non ci sono film brutti però è ovvio che il paragone può anche essere particolarmente pesante è un film che consiglio sempre quando si vuole capire davvero in che modo bisogna mettere in scena un poliziesco un noir quindi quando si parla di noir è chiaro che Hit nell'ambito del cinema contemporaneo assume una rilevanza importante probabilmente in un genere che ormai negli ultimi tempi risulta essere dimenticato probabilmente non più particolarmente di moda Hit è davvero è un film dalle mille caratteristiche è un film dalle mille sfaccettature è un film che riesce a regalare suggestioni riflessioni riflessioni anche da un punto di vista tecnico ci regala davvero degli attori in uno stato di forma straordinario il tutto appunto rendendolo e non ho esitazioni nel dirlo rendendolo un capolavoro immortale della storia del cinema un film che non mi stancherei mai di rivedere tanto che infatti l'ho rivisto recentemente probabilmente per la decima volta ma lo potrei tranquillamente rivedere anche dopo domani e non riuscirebbe in nessun modo a stancarmi nonostante la durata comunque cospicua perché dura due ore e mezza ma di queste due ore e mezza io non ho mai avvertito la come dire l'effettivo scorrere del tempo è un film che dura due ore e mezza ma sembra durarne mezz'ora sembra durare 40 minuti talmente perfetto nei suoi tempi talmente è perfetto nella messa in scena talmente è perfetto in tutto quello che ci vuole mostrare e ci vuole raccontare quindi capolavoro senza se e senza ma chiaramente questa era una video recensione che più che altro come sempre è diventata una chiacchierata a ruota libera come spesso succede appunto nelle recensioni che fanno parte della rubrica e film della mia vita non mi rimane che chiedere a voi che cosa ne pensate di it che cosa ne pensate di questo film è un film che vi piace spero di sì è un film che vi ha accompagnato durante la vita lo ritenete lo considerate il film migliore di Michael Mann oppure no tutte quelle che sono le vostre considerazioni fatemele sapere qui sotto nei commenti perché come sempre vi leggerò e vi risponderò molto molto volentieri quindi vi aspetto qui sotto io vi ringrazio come sempre per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi ricordo fondamentale iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto è il modo più semplice ma anche più importante per aiutare il canale a crescere ancora di più poi vi ricordo di lasciare il vostro mi piace se il video vi è piaciuto commentatelo come vi ho detto condividete il video ovunque vogliate e poi vi aspetto anche nella mia pagina Instagram nella mia pagina Facebook nel mio canale Telegram trovate i link qui sotto in descrizione io come sempre vi do l'appuntamento ad un prossimo video ad una prossima video recensione in una delle tante rubriche che state diciamo che porto avanti e che trovate nel mio canale io vi auguro come sempre anche una buona continuazione di giornate e ci vediamo presto ciao a tutti